sta per partire la carica dei candidati al consiglio comunale ci siamo per agropoli abbiamo visto siete in 272 ma non si è ancora capito se è una promessa o una minaccia libertà e partecipazione mi direte voi ma siamo proprio sicuri che per tanti questa partecipazione sia frutto di una scelta libera e non una costruzione dettata da ragioni clientelari non sembra infatti che tutti i candidati possano vantarsi di avere agropoli nel cuore cara agropoli con te ci saranno candidati di tutti i tipi giovani e vecchi politici di lungo corso e giovani di belle speranze spiriti liberi ascari e clienti agli elettori spetterà l'ultima parola liberi e forti non sempre non tutti staremo a vedere cosa riserveranno le urne del resto sono anni ormai che non c'è una agropoli in salute e di certo non è colpa né del covid né delle allergie primaverili né dei malanni di stagione difficile comunque che gli slogan possano fare da collante insieme per mutali passi uniti per mutali passi se lo siete stati come per adamocoppola roberto non potrà di certo dormire sonni tranquilli tra le liste politiche c'è chi è partito democratico e si è ritrovato poi nel centrodestra qualche l'un altro di certo non è partito socialista eppure oggi ostenta all'occhiello il suo garofano in questi giochi agropoli oltre tutto mostra grande fantasia tanto nella composizione delle liste quanto nei cambi di casacca ma si sa agropoli può riservare sempre grandi sorprese agropoli con mutali passi bene non dare nulla per scontato a deciderlo saranno gli elettori intanto per chi volesse fare il regalo di nozze allo sposo al negozio di arredo casa la lista mutali passi è già pronta ma il dubbio ad ogni spusalizio è sempre lo stesso siamo sicuri che gli sposi non preferiscano la busta al supermarket della politica offerte speciali al maxi città futura resta da capire se la nostra agropoli avrà mutali passi sindaco massimo la porta sindaco sindaco elvira serra o raffaele pesce sindaco sulla scheda tutte le quattro possibilità saranno in bella mostra anche nei simboli di lista non resta che armarsi di santa pazienza e andare a vedere le carte di ciascuno ancora pochi giorni e avremo tutte le ufficialità